Wow ragazzi, Monte Greco, metri 2285. Dovete sapere che questa per me è una vetta che mi sta veramente molto molto a cuore. Grazie a lei e grazie soprattutto allo spettacolo che offre, che sarebbe poi questo qui, una ventina d'anni or sono, ho scoperto il mio amore per queste montagne. Devo dire grazie al mio amico Locci Gianfranco che saluto, il quale allora mi ha portato fin qui e mi ha donato questo spettacolo insieme a questa meravigliosa vetta che si affaccia in maniera veramente impetuosa, implacabile sulle montagne del parco. Da qui si vedono le valli più belle, si vedono le vette più belle. Ricordo la prima volta che vedi da qui il rifugio di Forcarisuni, tra il Monte Petroso e il Capraro, ne rimasi totalmente affascinato e disse a Gianfranco, Gianfranco mi raccomando mi ci devi portare. Beh, devo dire che in questi venti anni ne ho fatta di strada, come diceva una famosa canzone. E adesso non ho più bisogno di nessuno per venire in montagna, anzi preferisco venire da solo anche perché da solo si percepisce di più il senso della montagna, della solitudine. Infatti questi tre ragazzi che ci hanno lasciato poco, anzi non mi hanno permesso prima di fare questo video, ho atteso che se ne andassero, non perché mi fossero antipatici, anzi erano molto molto simpatici, ma è bene stare in solitudine in montagna, altrimenti si perde un po' del senso di questo meraviglioso luogo. Affacciamoci sull'altopiano Antonio Rotondo, da dove provengo. Sto venendo dalla Lemugna, quest'oggi per celebrare la mia 85esima uscita del 2021, 85esima cavalcata, non poteva andare meglio di così, perché una giornata così bella non poteva meritare niente di meno. Il Monte Greco. Sono stati 5 chilometri, fatti in 1 ora e 40 minuti, in assoluta rilassatezza, con questa giornata che veramente io penso che più di così non si potrebbe sperare. Non tira un aglio di vento, qui su a 2285 metri stimo di avere una temperatura di 20-22 gradi, quindi in totale assenza di vento più di così veramente non si può chiedere. Il Monte Greco. Era più di un anno che non venivo fin qui e veramente questa vetta mi mancava tanto. Con queste sue pareti rocciose che cadono a strapiombo sull'altopiano Antonio Rotondo, scavate dai circhi glaciali di chissà di quanti altri milioni, migliaia direi, di anni fa. Ecco là in fondo lo stazio d'Antonio Rotondo da dove provengo, le toppe del tesoro e poi la maiella. Là in fondo, bellissima. Veramente una giornata che dona uno spettacolo assolutamente meraviglioso. Faccio su e giù vicino a questa vetta perché veramente non saprei quale versante preferire per affacciarmi e godere di questo spettacolo. Meraviglioso, meraviglioso. Il Monte Greco. Monte Greco. Eccoci qua in direzione Lago Pantaniello dove c'è il Monte Gensana. Là in fondo poi la meravigliosissima Serra Chiarano. Mamma che bella. Col Monte della Corte il Marsicano là in fondo. Wow ragazzi. Veramente una giornata fantastica. Vabbè. Io penso che vi ho regalato una bella cosa oggi. Posso ritenermi soddisfatto. Vi lascio con questa meravigliosa croce che veramente rende onore a questa vetta. Una croce che veramente più bella di così forse non potevano mettercela. Fantastico. Una farfalla si sta appoggiando sul mio cellulare. Adesso peccato che non può essere inquadrata ma veramente una visione fantastica. Ok ragazzi. Dai 2285 metri riprendiamoci un po' da questa estasi meravigliosa. Riprendiamoci un po' ancora le farfalle sul mio cellulare. Qualcosa di fantastico. Veramente un contorno meraviglioso. Un salutone. Un abbraccione a tutti da Corradino. 2285 Monte Greco. 22 agosto 2021.